cicloturisti e cicloturisti ma buon salve c'è addirittura un pochino di sole che fa capolino stamattina non lo vedevo da quattro giorni ormai quindi fa stranissimo la fai, verbi, verbi, verbi eh sì anche oggi sandali perché le scarpe non si sono asciugate bici pronta e ho un altro deja vu troppi veramente in questi giorni orangina la mia adorata orangina con la quale sono venuto qua quattro anni fa nel mio viaggio da colonia a londra e appunto mi ha spiegato jean pierre proprio qua ero con una con una orangina tanti deja vu scambiati tante cose veramente in quattro anni lascio la casa di jean pierre che è stato veramente super gentile l'ultima volta che l'ho lasciato gli ho fatto fare un video di me che pedalavo quindi jean pierre follow me ciao 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 che bello è rivivere i momenti di qualche anno fa io non ho una grandissima memoria però alcune cose me le ricordo e questa mi ricordo ogni momento che ho speso con jean pierre anche perché sono arrivato da una tappa devastante dove c'era un vento opposto fortissimo tutto il giorno vi lascio il video su youtube è di qualche anno fa quindi la qualità non è non è ottima però ve lo lascio perché quel che importa è il racconto no mi sono dimenticato di accendere il ciclo computer e a questo punto attivo la registrazione anche con whip che è questa applicazione che sto testando che ha tutta una serie di funzioni interessanti tipo tracciamento live insomma comunque poi ne parlerò in modo più approfondito si inizia segnala gps acquisito subito e si può partire ufficialmente verso calè dove c'è un punto in particolare dove parte la via francigena bello è il campanile del municipio lo stile è fiammingo se non sbaglio ed è veramente molto bello mi ricorda molto il belgio e tanta roba a me piace un sacco poi l'orologio così colorato bello bello stiamo cercando la cattedrale di notre dame non ho capito esattamente dove è eccola questa è la cattedrale di notre dame e da qua parte ufficialmente la via francigena quasi più una fortezza che una cattedrale ma quanti 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 fiori beh carina è carina poi con tutti questi fiori fuori solo che è proprio chiusa qua c'è un cartello che spiega che è stata costruita durante l'occupazione inglese è stata distrutta durante la guerra durante il 1944 peccato che però non si possa veramente entrare sono comparsi degli altri ciclo viaggiatori e quindi è caldissimo il caffè è ottimo adesso questi due amici ciclo viaggiatori che vi presento hanno una cosa che io non ho mai visto ovvero hanno il cambio qua dentro cioè questa è uguale è una cosa tedesca io non l'ho mai vista assolutamente avevo visto altri mozzi con i cambi posteriori qua dietro a parte che qua vedete hanno una cinghia non hanno una catena io non ho mai visto una roba del genere e lavoro nel mondo della bici quindi però loro sono olandesi quindi ci può stare è una roba curiosissima le bici sono super fighe dove vieni da esattamente? all'alland, all'estate ma dove andai? a niente a niente a niente questo è la risposta perfetta questa è la risposta perfetta ciao, buona giornata è un buon viaggio è un buon viaggio incontro ci vediamo in Milano ciao ok si inizia ufficialmente questa pedalata sono stati veramente gentilissimi ci voleva iniziare con degli altri ciclo viaggiatori mi approfitto anche per mettere un po' di lubrificante qua sono uscito ufficialmente da Calais si riprende a pedalare stavo pedalando quindi in direzione di Roma a tutti gli effetti tengo però a fare una piccola precisazione ovvero che non seguirò esattamente l'itinerario della via francigena a piedi ma ho elaborato una traccia mia personale ovviamente passerò da alcune città da dove passa la via francigena ma essendo il percorso prevalentemente per pellegrini a piedi ho quindi elaborato un percorso che è totalmente mio e non ha niente a che fare con la via francigena ufficiale quindi questo ci tenevo a dirlo a spiegarlo per bene quasi le due e finalmente ho iniziato a pedalare lungo la via francigena verso Roma piccola deviazione dovrei ritornare sul percorso della via francigena perché c'è una chiesa davvero molto particolare e io ci ho voglia di andarla a vedere anche se ci sarà da salire un po' qualcosa che non quadra perché la strada è leggermente interrotta però sono vicino al di là di quella collinetta a sto punto prova ad arrivarci col drone ok sono riuscito a fare la ripresa che volevo fare era proprio oltre quella collina però non ho mai spinto il drone così lontano più di 800 metri questo DJI Mavic Mini è una bomba eccola quanto è bella a me mi attirano un botto questi luoghi abbandonati così su un puzzolo ma si vede in fondo a calè un po' si introdite la mano ovviamente ecco però non rende l'idea però veramente meglio adesso si riprende a pedalare perché non ho fatto niente praticamente sono le 4 e devo fare almeno almeno altri 70 km andiamo il vento c'è e si sente e dovrebbe essere un pelo 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 a favore buongiorno dai le tocchiamo sti 50 50 toccati ci voleva sale sale non fa male scende scende e ti riprende che salitozza 11% wow penso di poter dire che ho scollinato vedranno in quota qua comunque non è non è malaccio è bellissimo il piatto e poi ci sembra una bella discesa ritorno sulla strada principale ecco un segnale questo è il segnale della via francigena tac però cioè tipo lì io non ci posso andare invece è impossibile e quindi noi si va per queste strade sembra una contea ma che figata è raga ma è bellissimo la GoPro rende l'idea della discesozza e poi della salitozza no perché raga veramente senza senso ma cos'è è normale che adesso c'è poi discesa perché ma carina questa Sant'Omer completamente a caso bella bella certo che ho anche loro all'astricato disconnesso mica scherzano oh beh io quasi quasi dentro un giro ce lo faccio che bella è fuori ma che bella è ma che bella è sai che non devo nemmeno fermarmi cioè bellissimo purtroppo non sono come il buon Bersfader che riesce a nerdare dentro le chiese mi piace girarmi così random e sono veramente mi piace stupirmi di quanta bellezza abbiamo veramente dietro casa in un angolo in Europa cioè ce l'abbiamo solo noi queste cose raga adesso però ho un po' di famina quindi vado a nerdare anch'io però vado a nerdare tipo in un break sicuro ma raga io non è che sono un fan del mcdonald tipo a casa non ci vado mai però trovatemi voi in un altro posto dove posso ricaricare le cose ho il wifi e posso mangiare per meno di 5 euro non è che sono contro il mcdonald contro il fast food semplicemente a casa lievito però in viaggio devo ammettere che sono molto molto utile e io sono una persona troppo pragmatica e poco idealista quindi boccalone di orangina e mi riposo un po' e carico un video che voi avete già visto l'introduzione di questo viaggio la persona davanti a me pensa che io sia pazzo perché sto parlando da solo però è importante avere una bella faccia di bello adesso faccio quello che si lamenta sempre ok fermarsi a fare la pausa da mcdonald però volete mettere la sbatta e l'ansia di andare in bagno e fare la cassa a parte che è complicato togliersi la salopetta eccetera eccetera però io ho l'ansia raga sono paranoico per la mia bicicletta si la leggo l'ho portata dentro al mcdonald però quante paranoie ho visto lo specchio che il naso è completamente rosso e faccio ridere sono le 7 e mezza voglio pedalare almeno due ore due rette e mezza wow è di tre gradi si sta molto bene ah giusto sapete un'altra cosa per cui è molto utile il mcdonald l'acqua al bagno presa così e chi è che si è dimenticato di riempire entrambe le borracce e praticamente è finito l'acqua esatto io merci buongiorno ciao nel frattempo ho scoperto a Parigi che si può chiedere in qualsiasi posto pubblico privato ristorante bar pub kebaperia l'acqua da rubinetto gratuitamente e non possono rifiutare di dartela anche se è un barbone tipo me adesso in questo momento quindi bella fresca ovviamente bisogna avere un po' la faccia tosta dire s'il vous plait se è possibile un po' d'oeuf ah un po' d'oeuf vabbè fare un po' cose del genere e però te la danno figo con l'acqua in corso sono andato un quarto sto andando bene mi sento pieno di energie al punto più o meno dove volevo arrivare mancano poco più di 20 km ho partito praticamente l'una e mezza anche oggi si fanno quei 100 km e va bene così sono finito qua non so se è una cosa positiva negativa però prima ho preso un ramo contro la mano molto forte la strada si fa un po' strettina continua per un chilometro ok smetto di filmare che sennò può vabbè idea è tipico forse non è stata proprio una cattiva idea venire su questo sentiero forse la ripresa non rende però è una bella vista poi di qua abbiamo un bel campo di grano insomma bello bello sarebbe anche un bellissimo spot per fare i campi solo che sono solo le 9.20 posso mettere a fare pre-camping adesso o forse dovrei comunque mi sa che in questo percorso di single track sterrato nel boschetto ho raccolto qualcosa da cucinare stasera no dico volevamo farcela mancare lo scollino finale con due tornantozzi che è ok dai il panorama però è ok dai non mi sembra il simbolo della via francisina ma sta a vedere che ho trovato un bello spot tipo lì in cima stavo volando il lavoro del youtuber è un lavoro pericoloso segnatelo non fatelo beh beh là c'è la strada saranno 50 metri lì ci sono delle case e queste sono due cose che cerco sempre quando cerco uno spot per fare free camping chiaramente mi sembra una zona abbastanza non abbastanza però comunque di passaggio tipo per le camminate la mattina quindi cercherò di non mettermi esattamente in mezzo a questo sentiero però ci siamo trovato il posto mi sono spostato un po' ma il posto l'ho trovato la strada è sempre qua vicino non sembra esserci grande traffico di macchine e la birra però l'ho già aperta ragazzi questa è una parashave a caso punto la tenda la cosa bella di questa tenda è che una parte ok 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 forse forse ce la facciamo dicevo la cosa bella di questa tenda for class 900 della decathlon è che è molto intuitiva nel senso qua ci sono i pali neri e vanno sulle fettuccine nere qua ci sono i pali color giallo e vanno sulle fettuccine gialle così è difficile sbagliarsi ecco vedete qua fettuccina gialla sul palo giallo così tac è veramente facilissimo da montare a me piace e ha già superato la prova free camping oppure viaggio in bicicletta quindi ve la straconsiglio la trovate qua sotto in descrizione insieme a tutta l'attrezzatura che mi sto portando dietro nel mio viaggio sopra c'è anche la copertura impermeabile comunque antipioggia però adesso volevo cucinare perché ho foda eh sì ora ci siamo eccole oh yes lo chef consiglia questo delizioso riso di uncle ben me lo ricordo quando facevo volontariato in irlanda questo praticamente è ovunque boh risola cantonese per due minuti vabbè non ho capito qua l'acqua bolle mettiamo ok sto spargendo chicchi dappertutto ma vi dirò va proprio schifo l'ho stracotto quindi va giù e scalda lo stomaco anche se comunque non fa freddo perché mi sono posizionato in una conchetta non c'è una bava di vento si sta veramente molto bene ci saranno sempre quei 13-14 gradi però mi sono coperto bene un po' di cibo caldo è quello che vuole dopo questo show reel di prelibatezze direi che possiamo chiudere questa giornata spero che il video vi sia piaciuto se sì come al solito ho lasciato un bel pocio in su iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti seguitemi su tutti i miei bellissimi social che trovate qua sotto in descrizione se volete sostenere il canale c'è un link al mio patreon dove potete ricevere dei benefit iscrivervi a un gruppo telegramma esclusivo link in descrizione per approfondire io adesso vado a dormire perché sta un po' scendendo la stanchezza non ero eccessivamente stanco però sta un po' scendendo la stanchezza domani mi ricongiungerò finalmente al gruppo Dave Francigia quindi non perdetevi la prossima puntata come al solito difidate le limitazioni buone piantate a tutti ragazzi ciao